allora sono qui con google sheet e immaginiamo che io ho preso una serie di dati il problema che incollando tasto destro anche in situazioni normali tasto destro incolla ok lui mi abbia messo tutti i dati nelle varie colonne nelle varie righe ok lui sono riuscito ho copiato tutti questi da da un elenco e il problema è che copiano tutto assieme questi due numeri vengono tutti in una colonna solo allora com'è che faccio con google sheet seleziono tutto vado in dati e suddividi il testo in colonne a questo punto me lo separa in modo corretto questo è molto 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 comodo va bene ci vediamo la prossima